Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi anche oggi. Oggi siamo in compagnia di Anna Abbate con una nostra formatrice già conosciuta da molti con i suoi corsi dedicati alla scuola di benessere e dedicati anche all'educazione civica e in questo caso anche all'agenda 2030 che tanti spunti dà per le attività scolastiche. Do qualche breve notizia sul webinar di oggi. Il webinar di oggi è un webinar gratuito per il quale potrete ricevere un attestato di partecipazione per l'ora che passeremo insieme in compagnia della formatrice. Per ricevere questo attestato pubblicherò verso la fine dell'incontro tra i commenti di Zoom e nella chat di Zoom e i commenti di Facebook il link per ricevere l'attestato. Il materiale invece verrà caricato insieme alla registrazione di oggi sulla pagina registrazione webinar gratuiti sul nostro sito. Ci vorrà qualche giorno lavorativo quindi probabilmente lo troverete all'inizio della prossima settimana. Sul sito invece nella sezione corsi troverete tutte le informazioni inerenti al corso che vi andiamo a presentare oggi, ovvero educazione civica e agenda 2030. Oggi è il primo incontro di presentazione. Il corso prevederà altri due incontri che vi andrà a presentare Anna. Sarà un corso interattivo perché lo sanno bene le corsiste che hanno già seguito un corso con la dottore Sabate. Anzi, oggi se vorrete fare domande potrete intervenire, potete porle. Siete in modalità riunione di Zoom, quindi avete la possibilità di interagire direttamente con la formatrice attivando i vostri microfoni. Vi chiediamo solo di essere un pochino rispettosi e attenti negli interventi. Se volete potete usare la funzione alza la mano oppure rispettando gli interventi e i consigli continui della formatrice. Io ho parlato abbastanza, mi sembra, quindi direi di lasciare lo spazio alla dottoressa Anna Abate e auguro a tutti un buon corso e buona visione. Grazie mille, intanto grazie a Francesca, grazie a Scuola Oltre che è sempre una grandissima gioia essere qui con tutti voi da tutta Italia. Una grande emozione che mi aiuta a trovare energia, forza e capacità in tutto ciò che faccio per offrire a voi una formazione continua, sempre nuova, sempre ricca di stimoli. Ecco, intanto io chi sono? Sono una pedagogista clinico e sono una facilitatrice anche di percorsi, di progettazione partecipata. Ecco, per chi non sa cos'è la progettazione partecipata lo scopriremo anche all'interno del corso proprio di Agenda 2030 perché è fondamentale la partecipazione dei cittadini, quindi la creazione della cittadinanza attiva. E sono un'insegnante anch'io di scuola primaria, quindi credo molto nella formazione che viene proposta da chi il mondo della scuola lo conosce perché poi a volte ci capitano questi corsi di persone che non vivono le difficoltà, i problemi, la burocrazia e tutto sembra semplice e noi invece lo sappiamo che non è semplice ma se abbiamo la voglia, la capacità e soprattutto se riusciamo a fare rete tra di noi ed è questa l'importanza di questi corsi di Scuola Oltre creare rete tra insegnanti di buona volontà perché mai come oggi, mai come questo tempo moderno ci chiede abbiamo bisogno di creare comunità, comunità educante, abbiamo bisogno di creare speranza e rete voi vedete anche le ultime notizie che abbiamo di maestri, non faccio nomi, di scuole in Italia a che ci credono, che portano avanti progetti particolari, innovativi e non sempre tutto va a buon fine perché? Perché a volte è fondamentale creare una rete educativa con tanti stakeholder della propria comunità e quindi non la scuola vista proprio lasciata e abbandonata e da sola che in questo periodo è difficilissimo ma una scuola nella comunità riconosciuta, valorizzata, aiutata allora in quel senso anche quando ci sono poi situazioni innovative io sono convinta che la comunità le riconosce, le apprezza, le aiuta a far emergere e speriamo così sia anche per tutti quei maestri e quelle maestre che hanno coraggio e che portano avanti innovazione perché noi abbiamo bisogno di innovare la scuola perché parlo di innovazione? Perché scopriremo insomma Agenda 2030 è innovazione in realtà è una grande innovazione ed è anche quello che ci chiedono i nostri studenti che sono diciamo calati nella realtà di questo pianeta che ha tanti bisogni e quindi Agenda 2030 ci aiuta a conoscere insomma ma non voglio svelarvi, sto ancora parlando di me ecco avrete capito che sono una grande chiaccherona e per fortuna all'interno delle slide ci saranno tante domande a cui potrete poi voi rispondere, voglio sentire la vostra voce ecco io sono come diceva Francesca da molti anni formatrice per Scuola Oltre e prima ancora nel mondo del commercio ecosolidale da lì è partita la mia, diciamo il mio interesse e la mia passione per i temi che sono proposti dentro al tema grande di educazione civica e di Agenda 2030 sono anche un'insegnante, un'istruttrice di yoga educativo e di yoga e meditazione per cui appunto dall'anno scorso abbiamo iniziato con Scuola Oltre a portare anche i corsi di benessere all'interno della scuola perché diciamo che prima di tutto l'insegnante deve star bene e poi può proporre l'educazione civica e Agenda 2030 e tutte le altre forme di innovazione didattica che Scuola Oltre propone o a cui uno è appassionato però la prima, 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 prima cosa è che l'insegnante in classe deve essere messo nelle condizioni, di essere rilassato, tranquillo e di poter instaurare con la propria classe un buon rapporto ecco, allora io chiedo a Francesca devo chiederle questa cortesia di far partire le slide che abbiamo preparato, preparato per voi ecco qui ecco qui intanto vi chiedo ecco io non vi vedo ma immagino come gli scorsi anni di questi insegnanti che vengono da tutta Italia quindi intanto ecco magari nel salutarci provate pure a scrivere nella chat il vostro nome da dove venite e brevemente poi ci presenteremo con un gioco quindi noi abbiamo Agenda 2030 e l'educazione civica nella scuola primaria quindi questo è proprio specifico per insegnanti di scuola primaria quindi benvenuti intanto e grazie di essere qui spero che sarete felici, contenti di partecipare a questo corso oggi e che magari avrete voglia di approfondirlo strada facendo e quindi andiamo pure alla seconda slide ecco qui educazione civica è come educazione alla educazione civica e responsabile ecco questo vi dicevo appunto io sono una pedagogista clinico e per me è fondamentale che la scuola sia e diventi protagonista di un cambiamento un cambiamento che è fondamentale perché noi abbiamo il dovere dal mio punto di vista come insegnante, come pedagogista di formare i ragazzi perché siano cittadini fondamentalmente più consapevoli possibili e più come dire protagonisti del cambiamento di questa società allora intanto pensiamo a questo una riflessione post 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 covid ma diciamo dentro covid ecco io non ne parlo mai sapete poi noi insegnanti di yoga meditazione positivi ecco però da un punto di vista come una riflessione sociologica e pedagogica la dobbiamo fare nel senso che quanto è cambiata la nostra vita e in quanto tempo avete visto cioè ci siamo resi conto tutti che nell'arco di poche settimane c'è stato uno stravolgimento mondiale allora possiamo intuire questo questo da un punto di vista storico è un fatto che è accaduto spesso ecco non spessissimo ma spesso accade il cambiamento cioè reagire al cambiamento stare dentro il cambiamento abbiamo visto quante persone si sono trovate in difficoltà a vivere il cambiamento allora pensiamo ai bisogni educativi perché se non pensiamo ai bisogni educativi oggi non siamo sintonizzati sui bisogni dei nostri bambini i nostri bambini sono in una società cento volte più complessa di vent'anni fa hanno fatto gli studi le università sette volte è diventata più complessa nel mondo aziendale il mondo lavorativo è frenetico veloce e richiede una serie di competenze ad altissimo livello quindi in qualche modo il cambiamento ci riguarda tutti e noi in qualche modo dobbiamo educare i nostri ragazzi a essere capaci a vivere il cambiamento e quindi siamo noi che possiamo rendere la nostra scuola una sfida educativa importante per aiutare le nuove generazioni e qui Agenda 2030 lo scopriremo insieme e l'educazione civica sono fondamentali per imparare a vivere e a crescere nel cambiamento quindi questo è fondamentale e siamo noi insegnanti non è la scuola dall'alto il ministero aiuta ma non è la scuola dall'altro siamo noi insegnanti che diamo vita a tutto ciò andiamo avanti grazie allora che cosa significa quindi vivere questa consapevolezza questa responsabilità allora mi presento mi presento e penso e dico quindi chiedo proprio a voi di dire il vostro nome la scuola da dove provenite e da bambini a scuola come avete vissuto l'educazione civica questo è un esercizio di gruppo che è fondamentale per poter iniziare un percorso formativo rispetto a questo tema voi sapete che se non parliamo tutti lo stesso linguaggio riusciamo a non comunicare a non capirci quindi per me è fondamentale come formatrice conoscervi e sentire la vostra voce e sentire voi da piccole alle elementari se vi ricordate o anche alle medie alle superiori insomma quando avete fatto educazione civica come ve l'hanno proposta che cosa studiavate c'era un sussidiario c'era l'insegnante che vi portava nel territorio ecco io mi taccio un secondo e vi faccio rispondere grazie a Francesca che mi aiuta ad ascoltarvi intanto comunico a chi vuole rispondere su Facebook che può scriverlo tra i commenti che così li leggo per voi mentre su Zoom se qualcuno vuole intervenire può attivare il suo microfono ecco di solito chiamiamo anche quei nomi però ecco trovate trovate la voglia di non farvi chiamare perché poi io vedo Elena Rossella ecco ecco c'è qualcuno posso cominciare? allora io sono Maria Pia e sono dei amici noi abbiamo studiato sui libri su dei testi ma abbiamo studiato la costituzione la normativa non abbiamo fatto altro quindi in età adulta diciamo nel senso alle superiori alle medie alle medie non l'avevo sentito scusami alle medie alle medie avete studiato sì la parte più che altro normativa sì 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 benissimo grazie chi c'è ancora che vuole partecipare? c'è Tomasina Ferraro che vedo che ha attivato il microfono sì salve buonasera 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 niente la nostra esperienza come educazione civica personale sì l'abbiamo studiata mentre la facevamo con i bambini nel corso degli anni l'abbiamo rivista poi la nostra personale risale un po' ai tempi della scuola ma non più di tanto ecco è più un interesse personale quindi diciamo che quando tu hai frequentizzato io do del tuo ai corsi non ci sono differenze è una comunità educante tutta come il rapporto tra insegnante allievo è quello che ci danno i nostri ragazzi nelle classi dico sempre io noi cresciamo ogni giorno con loro ed è uno scambio quindi per me come formatrice ritengo questo nei corsi che si cresce insieme ecco quindi mi dicevi che a scuola non si è fatta tanta educazione civica alla fine a scuola come alunna no non tanto a scuola poi come insegnante sicuramente sì perché l'argomento mi è sempre interessato e quindi si è lavorato più che altro sulla parte amministrativa dello Stato la parte la parte legislativa tutta quella la parte di diritto se vogliamo ecco certo quindi c'è questo ricordo molto legato al diritto c'è qualcun altro che ha delle altre esperienze di scuola che si ricorda eventualmente delle proposte particolari anche solo per un tema particolare nel senso che magari non è stata fatta l'educazione civica però l'insegnante era particolarmente appassionato a questo tema per cui poi l'aveva proposto nella vostra classe ti posso leggere qualche commento che è arrivato da facebook scrive Domenico che l'ha studiata come integrazione allo studio della disciplina di storia mentre abbiamo qua su zoom che ci scrive Lilla scrive che l'ha affrontata come ambiente come plastica quindi immagino riciclo educazione civica insieme educazione tecnica c'è chi scrive anche educazione stradale Daniela scrive la scuola primaria ha studiato educazione civica conoscendo figure istituzionali sindaco e assessori come esempio Caterino dice che c'è un grande interesse personale che in modo trasversale affronta nelle discipline di insegnamento poi vedo che c'è qualcuno che ancora vuole intervenire a voce quindi Antonella se vuole intervenire buonasera come prima cosa mi scuso per il ritardo ma ho avuto problemi a collegarmi ho 56 anni e devo dire che la scuola elementare che ho frequentato era molto alternativa cioè nel senso nonostante abbia frequentato una scuola privata quindi religiosa io avevo un'insegnante giovanissima che ci ha fatto vivere l'educazione civica adesso capisco che è educazione civica ma all'epoca noi lo facevamo come gioco cioè dovevamo comunque responsabilizzarci visto che comunque era un collegio anche se era diurno e quindi ognuno di noi aveva dei compiti e quindi sotto forma di gioco ci occupavamo dell'ambiente interno esterno poi avevamo la fortuna di avere dei giardini immensi con anche coltivazioni e anche animali quindi per noi diventava la quotidianità la normalità era per noi non l'avevamo come una materia in più da studiare anche perché non abbiamo mai utilizzato per quanto riguarda l'educazione civica dei testi o dei quaderni era proprio il fare il tenere pulito il occuparci magari non so dell'orto piuttosto che del frutteto e quindi io l'ho vissuta come un gioco cioè l'ho vissuta così ma che fortuna che bellezza aver avuto questo tipo di impostazione di insegnamento di educazione alla responsabilità qui ovviamente mi taccio perché potete capire che potrei aprire una parentesi su questo tema che potrebbe anche durare due ore ma non siamo qui per questo ci sono altre docenti maestre che vogliono intervenire maestri se ci sono anche dei degli uomini dei maschietti che frequentano il corso se vogliono intervenire allora vedo Maria Grazia che ha il microfono attivato se vuole riportare la sua esperienza non so a volte oppure si aprono per errore io lo chiedo questo poi noi andiamo avanti ovviamente ma perché vi chiedo la vostra esperienza di educazione civica da bambino perché più di una volta sono andata in giro per le scuole e ho scoperto che l'educazione civica spesso viene vista dagli insegnanti ovviamente questo lo dico senza giudizio in quanto insegnanti di yoga noi non giudichiamo mai come formatori poi mai e poi mai solo come osservazione ho visto che spesso viene identificata la materia di educazione civica un po' come un po' come è stata ricevuta da piccoli nella scuola quindi io mi ricordo che magari facevamo chiamavamo la polizia stradale per il corso della polizia stradale piuttosto che la normativa piuttosto che spiegare la costituzione e basta l'educazione civica è finita ecco questo diciamo non è particolarmente in linea con le nuove indicazioni dell'educazione civica e né tantomeno con l'agenda 20-30 che è una cosa molto più complessa è molto molto bella sia per gli insegnanti sia per gli alunni sia per le scuole che la devono ancora comprendere perché devo dire la verità molto spesso anche chi è referente di educazione civica che quindi si è preso questo compito non sempre è formato rispetto a questi temi e questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo inserito questi corsi proprio per aiutare ecco i docenti a capire meglio quella che è la nuova normativa e a poter affrontare un percorso completo ogni anno con dei temi con gli obiettivi di Agenda 20-30 che è veramente si incastra alla perfezione con le competenze che vengono richieste a scuola sapete è vero tutti mi auguro che i programmi non esistono più che si parla di competenze ecco questo lo diamo per passo dato e ovviamente Agenda 20-30 si incastra con queste competenze quindi è secondo me una liberazione anche per gli insegnanti poter insegnare ispirandosi a questi principi e quindi ovviamente in qualche modo quella che era una volta l'educazione civica vissuta nelle scuole è un po' diversa ecco diciamoci così se c'è qualcun altro che vuole intervenire altrimenti andiamo avanti ti leggo altri due commenti arrivati allora Silvia Maria che dice educazione civica legata alla storia ma anche vissuta e partecipata attraverso le votazioni in classe e Mirelle invece scrive ora da insegnante affronto le tematiche di educazione civica in modo trasversale collaborando con le colleghe e aprendoci al territorio ah questa è è la la cosa più bella in assoluto che si possa fare quando io sento un insegnante poi adesso ehm lo vediamo insieme parlare di territorio eh allora lì veramente vedo una metodologia nuova partecipativa una didattica nuova che si apre perché le nostre scuole le dobbiamo aprire verso l'esterno eh verso l'esterno e ehm farci aiutare anche da tutti quei soggetti che abitano il territorio siamo in difficoltà innegabile possiamo farci aiutare da tutti i soggetti che sono nel territorio e costruire delle reti di collaborazione non ultimi prima parlavamo con Francesca non ultimi i numerosi finanziamenti che sono arrivati in quest'anno e che ne arriveranno a pioggia ancora proprio per costruire anche percorsi di agenda venti trenta nelle vostre scuole ecco quindi io direi che possiamo ringraziare tutti perché non è finita sarete chiamati a intervenire ancora e intanto ringrazio tutte le persone che si sono coinvolte e andrei avanti e c'è un altro piccolo esercizio per voi la storia personale ecco quindi prima abbiamo fatto una memoria storica rispetto all'educazione civica e vostra come alunni quindi di tempo fa per tutti e adesso invece vi chiedo come insegnanti adesso nel cui ora quindi con la vostra classe con la prima elementare la seconda la terza primaria ma io sono affezionata al termine elementare sono anch'io un'insegnante di scuola primaria però disegniamo la linea del tempo quindi a tutti chiedo di prendere un foglio poi lì vi chiederemo di aprire le videocamere di farcelo vedere a prendere un foglio prendere una penna e mettere tutte le lezioni gli episodi che vi ricordate che fino adesso avete fatto con la vostra classe non l'anno scorso quando è partita la nuova educazione civica con agenda 20-30 ma quelle che avevo anche quelle dell'anno scorso che io sono curiosissima a dire il vero comunque diciamo anche quelle precedenti quindi se già eravate avete appassionati al tema dell'educazione civica e magari avete proposto un percorso sull'acqua e magari avete proposto un percorso come si diceva sulla ricicleria o magari avete proposto un percorso che ne so partecipato del vostro quartiere della vostra scuola perché avete bisogno di usare il giardino non ce l'avete a scuola quindi avete preso degli accordi con il comune con i bambini magari hanno fatto qualcosa di bello ecco io sono curiosa mi piace girare per l'Italia scoprire tutte le scuole che adottano e fanno innovazione perché è fondamentale ecco quindi ecco vi chiedo di disegnare questa linea del tempo ci diamo proprio due minuti eh e e la vediamo insieme se c'è qualcuno che vuole alzare la mano che vuole commentare siamo una cosa molto veloce nel tempo posso leggerti un altro commento da Facebook dove Daniela scrive che educazione civica secondo lei è educare rispetto verso se stessi il prossimo l'ambiente in collaborazione con gli enti esterni quando era bambina era legata a storia poi sono stati anche tanti ricordi legati alla bandiera italiana ovviamente che non ho mai avuto modo insomma di leggerti bene grazie grazie mille a tutte quante ma poi io me li vado a leggere tutti quanti insieme a Francesca quando chiudiamo la diretta siamo curiosone siamo proprio ci piace andare in cerca e ascoltare perché abbiamo un po' siamo sempre difetta in questa società anche a scuola adesso riniziata la scuola i primi giorni di scuola tutti con problematiche non parlatemene infinite da risolvere e a volte io no ma semplicemente perché con tutti i rituali del benessere che faccio e che insegno ecco e sicuramente neanche voi perché sarete bravissime tutte quante però bisogna chiudere veramente a chiave quella porta di problemi infiniti che arrivano quelle normative che non sappiamo il ministero a volte no e ci vuole tanta pazienza tanto amore per il proprio lavoro chiudere le porte e e stare con i nostri bambini concentrarsi sul rapporto che abbiamo con i nostri bambini che è la cosa più preziosa che possiamo avere rapporto di educazione alla cittadinanza perché prima ancora di insegnare storia geografia matematica italiano è fondamentale e voi lo sapete insegnare le buone norme innanzitutto i principi i valori i valori quelli della famiglia sono in famiglia ma poi ci sono anche quelli della cittadinanza e quelli della cittadinanza aspettano a chi agli insegnanti eh sì perché la scuola è chiamata a educare cittadini responsabili ecco allora intanto vediamo se c'è qualcuno che ci vuole raccontare dell'educazione civica nella sua scuola mi pare Tomasina sì allora io io lavoro in una scuola primaria a tempo pieno dove facciamo 40 ore di lezione di cui tre vengono dedicate al laboratorio quindi io in ogni ogni anno almeno una o due ore di questo laboratorio di queste tre ore le dedico a un progetto quindi se vogliamo rientrano tutti nell'educazione civica perché abbiamo fatto il progetto acqua l'educazione stradale i pianeti dalla pecora alla lana quindi tutto il processo il galateo un anno abbiamo lavorato sulla conoscenza del galateo sulla carta costituzionale dei diritti dei fanciulli quindi penso che l'orto abbiamo fatto l'orto in classe abbiamo fatto 150 piantine insomma è stato un bel lavoraccio lavorone anche una bella mangiata mi viene da dire scusami e questo giustamente almeno da parte mia sono sempre rientrati in un'ottica che non non so non è la didattica abituale la programmazione insomma della primaria dove i bambini possono conoscere mondi diversi avere rispetto delle regole abbiamo parlato un anno sui diritti e i doveri del bambino del fanciullo è stata un'esperienza un po' negativa se vogliamo quell'anno lì perché i diritti li avevano proprio acquisiti alla grande quindi ogni qualvolta dicevano ma è un mio diritto parlare è un mio diritto quindi dico basta non lo farò più e penso che tutti questi progetti siano stati efficaci affinché uno acquisisce il modo di vivere in maniera corretta cioè il rispetto dell'acqua il rispetto della natura il rispetto delle regole beh intanto ti ringrazio tantissimo perché hai dato un materiale talmente ampio e quest'anno giusto per quest'anno scusi pensavo di fare un progetto sui pianeti e alla fine riportare il lavoro sull'ambiente bellissimo bellissimo infatti noi adesso vedremo proprio con Agenda 2030 parliamo proprio di educazione sostenibile e tutte le tematiche ambientali che sono dentro agli obiettivi di Agenda 2030 ecco io ti volevo semplicemente ringraziare tantissimo per la tua testimonianza perché mentre parlavi mi sono riuscita a immaginare te con i tuoi alunni in classe a fare lezione ecco e questo mi scalda veramente tanto tanto il cuore spero che tutti gli insegnanti che sono in ascolto si sentano come me emozionati nel sentire quanta passione c'è perché voi sapete che sono sfide non particolarmente semplici anche semplicemente fare l'orto in giardino in una scuola non ce la raccontiamo non è una cosa banale al di là che devi essere una scuola compatta ma al di là di questo non è così semplice ecco quindi sono sfide sfide ma nel vero senso della parola però è anche vero questo che se noi pensiamo a un'educazione civica studiata in un libro di testo con le normative che si studiavano si evidenziavano si ripetevano ad alta voce senza comprenderle senza il corpo senza l'esperienza ecco diciamo che poi abbiamo visto in effetti che come principio educante forse non siamo riusciti in qualche modo non sono riusciti perché si parla del passato di un lungo passato a creare veramente quell'educazione civica nelle persone nei cittadini tale da sentirci una vera comunità lo vediamo questo per sentirsi comunità è fondamentale educare all'educazione civica attraverso le azioni il corpo per cui bellissime tutte queste cose che hai fatto con i tuoi alunni che in realtà rientrano nella programmazione scolastica perché si parla di competenze quindi questo è fondamentale anche con Agenda 2030 vedrete quante competenze noi andiamo a insegnare ai nostri bambini e ritorno al discorso di prima il cambiamento come si può aiutare un bambino a sviluppare delle competenze perché da adulto riesca a lavorare in qualche modo con il cambiamento continuo con la velocità ecco anche attraverso queste esperienze che proponiamo alla scuola elementare perché adesso visto che è un corso solo per maestri della scuola elementare diciamocelo che poi alle medie alle superiori non sempre si fanno lavori con le mani con il corpo seguendo una certa pedagogia ecco però niente non voglio non sto parlando male di nessuno mi raccomando però dico che noi insegnanti della scuola elementare siamo veramente avanti lo siamo sempre stati in Italia da questo punto di vista allora io direi di andare avanti non per non ascoltarvi ma perché vedo che il tempo scorre ho tantissime cose da dirvi poi eventualmente ritorniamo allora educazione civica voi sapete che c'è questa nuova ormai sapete questa nuova legge del 20 agosto 2019 che è l'introduzione all'insegnamento scolastico dell'educazione civica abbiamo visto che è entrata in vigore da pochissimo quindi in 5 settembre 2019 e ecco perché l'hanno voluta diciamocelo diciamocelo ecco noi come pedagogisti e anche vari psicologi della scuola per anni siamo diciamo molto chiamati in causa non vi dico questi ultimi due anni non ve lo dico neanche perché più che felicità ci mette troppa tristezza di comportamenti di bullismo cyberbullismo ultimamente purtroppo anche tanti tanti ragazzi che si chiudono in casa e che non vogliono più andare a scuola ci sono veramente situazioni difficili difficili allora in qualche modo la politica ha voluto capire questo fenomeno e questi fenomeni queste emergenze sociali e in qualche modo ha visto che l'introduzione dell'educazione civica poteva essere una forma di aiuto in questo e voi direte ma come? ma sì perché dobbiamo toglierci dalla testa l'educazione civica che abbiamo fatto noi quando eravamo bambini a scuola metterla in un contenitore e aprire il nuovo contenitore della nuova educazione civica andiamo pure avanti Francesca grazie allora educazione civica vediamo che abbiamo già detto molto di questo contribuisce a creare che cosa dei cittadini responsabili attivi cittadini che poi parteciperanno alla vita del loro quartiere del loro paese e che come diceva la maestra prima conoscono i diritti e i doveri ecco e vediamo anche che questa educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della costituzione italiana che vedremo oggi e delle istituzioni dell'unione europea ecco perché forse a differenza anche di quando eravamo piccoli noi insomma il ruolo della comunità europea è molto importante e va fatto conoscere i bambini e vedremo anche i goal di agenda 20-30 in che modo sono collegati a tutto questo e quindi i principi quali sono i principi a cui si rifà questa educazione civica la legalità e quindi vedremo anche tutti i percorsi di educazione alla legalità a cittadinanza attiva e digitale che ha un suo significato la sostenibilità ambientale come abbiamo visto il diritto alla salute e al benessere della persona quindi ci sono veramente tantissime competenze tantissimi temi tantissimi sentieri e percorsi nel quale l'insegnante può intraprendere il suo viaggio e quindi andiamo avanti allora che cosa significa quindi educare all'azione civica e responsabile in questa società allora in questo caso vediamo i vari contenuti che noi abbiamo ovviamente in tutte quanti le educazioni che noi conosciamo quindi nella costituzione nell'agenda 20-30 nell'educazione alla cittadinanza digitale alla legalità alla protezione civile ecco nella legge ci sono proprio tutti questi questi rimandi e quindi per noi è fondamentale saperlo perché quell'insegnante che pensa che facendo educazione stradale ha fatto educazione civica sì è vero c'è scritto anche promuovere l'educazione stradale ma tanto altro per cui noi ogni anno possiamo darci degli obiettivi diversi questo è fondamentale lo sviluppo ecosostenibile ecco la valorizzazione del patrimonio culturale quindi anche tutte quelle uscite di che possiamo fare finalmente quest'anno speriamo incrociamo bene 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 le dita che possiamo fare nel territorio e quindi anche le famose a me non piace il termine egite ve lo dico vi dico la verità perché mi piace il termine uscita didattica io ricordo quando sono stata in Belgio stupirmi moltissimo e anche sinceramente in Inghilterra i bambini hanno non so se avete mai visto hanno delle 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 tutine diciamo colorate fluorescenti che si vedono in tutta la città per andare in giro a conoscere la loro città hanno una specie di come dire possono portare gli insegnanti i bambini in uscita didattica quasi sempre nel senso che loro praticamente la scuola la vivono nel territorio non fanno una uscita due come siamo abituati noi che la consideriamo una gita togliamo questo discorso della gita e mettiamo invece il discorso della uscita didattica con uno scopo che può essere anche quello di educazione civica andiamo avanti quindi ecco io vado un po' veloce in queste slide perché poi vi arriveranno con scuola oltre quindi ecco ci tengo magari le ho messe dentro per conoscenza ma poi ci tengo ad andare a parlare dei concetti che sono importanti quindi andiamo avanti allora che cosa significa educare all'azione civica responsabile in questa società e quindi ritorniamo a fare un brainstorming con voi intanto non è vedete se avete notato nel titolo io non ho messo educazione civica perché dal mio punto di vista come formatrice educazione civica è un po' quella effettivamente legata al passato a quell'educazione civica mentre per me è azione civica cioè io sono un cittadino un cittadino che ha diritti e doveri e che li esercita nel momento in cui il mio alunno quando vede una cartaccia per terra con tutte le precauzioni di questo mondo in questo momento si mette i guantini prende la cartaccia e la butta nel cestino allora io ho fatto educazione civica se c'è un'azione civica altrimenti ho informato i miei alunni come facevano quando noi eravamo piccolini e si faceva questa educazione civica ci informavano ci informavano della costituzione ci informavano dei diritti e doveri ma non c'era tranne qualche fortunata tra di voi non c'era un'educazione all'azione civica ecco io vorrei vorrei che gli insegnanti che partecipano a questo corso potessero acquisire attraverso questo corso gli strumenti per diventare educatori di azione civica questo mi piace molto di più ecco l'idea di confronto mi piacerebbe questo che ci fosse uno brainstorming collettivo tra di voi per sentire intanto vorrei sentire anche appunto da dove venite che è una cosa che mi piace tantissimo di scuola oltre questa immagine di tutta l'Italia che si inizia a illuminare e per creare ponti nel territorio quindi che cosa vi sto chiedendo un'idea proprio un'idea facciamo uno brainstorming a voce come se noi domani dovessimo trovarci a scuola e stiamo già progettando adesso siamo in riunione in programmazione e dobbiamo decidere che cosa fare quest'anno per educazione civica qualcuno magari ci avrà pensato già che cosa vorrebbe realizzare nella sua scuola ecco quindi mi piacerebbe sentire un po' le vostre proposte anche perché è così che si farete nel senso che se Gianna da Palermo dice la sua idea Concetta che sta a Trento la recepisce Concetta che sta a Trento può dire la sua idea e Gianna e a questo punto farete possono fare rete e si possono costruire anche delle reti tra scuole che partecipano i corsi di scuola oltre perché se due scuole volessero fare magari si fa il corso di agenda 2030 completo si prendono tutta una serie di strumenti e si possono mettere in rete queste scuole sarebbe fantastico per me sarebbe proprio una cosa bellissima ecco mi taccio come al solito e Francesca c'è qualcuno che vuole intervenire? allora per adesso non ci sono ancora commenti sulla tua domanda probabilmente stanno iniziando a scrivere e pensare no mi riaggancio che questa mentre le docenti intervengono e scrivono che questa tra l'altro ribadiamo è una bellissima idea Anna la scuola in connessione è una delle proposte che da scuola oltre proprio per mettere in connessione quindi in comunione le scuole tra di loro perché come hai detto a te dall'idea di qualcuno può nascere una seconda idea uguale elaborata evoluta oppure diventare un'altra un'altra idea totalmente diversa ma la possibilità di fare anche corsi in presenza magari tra scuole che entrano in di paesi vicini di città vicine che ci si conosce tra colleghe magari appunto con proprio col tema educazione civica agenda 2030 corso di formazione a cui seguono poi dei progetti che entrano in scuola in connessione sarebbe veramente bellissimo il top dei top di tutto allora allora ti reggo le prime cose che sono arrivate curiosa di sentire le vostre idee per quest'anno allora Evira mi scrive tra le attività che ho programmato per la scuola media in quanto referente ci sono le uscite didattiche brevi per far conoscere la propria città e a tutti e no per far conoscere la propria città e tutti i servizi efficaci ancora da migliorare comunque complimenti a voi maestri nella mia ormai lunga carriera scolastica mi sono sempre informata attraverso scuole didattiche dall'altra rivista per la scuola primaria quindi rimane in connessione questo mi fa piacerissimo perché le uscite didattiche brevi secondo me ecco sono molto importanti anche qui sarebbe bello creare quella quella rete funzionale alle uscite didattiche proprio conoscere la propria città portare i bambini in in visita perché molto spesso il territorio non è conosciuto e allora qui siamo sempre a parlare di educazione civica cioè per poter rispettare un territorio fondamentale bene o male conoscerlo ecco molto spesso i bambini non conoscono assolutamente la loro città non la conoscono a volte neanche i genitori stessi per motivi sbariati abbiamo anche molte famiglie che magari vivono si spostano velocemente nel nostro paese quindi è fondamentale educare alla conoscenza del locale del locale per arrivare poi a un globale bisogna partire sapete sempre dal dal locale prima dal quartiere e poi via via fino alla città poi c'è Angela Roberta da Scoletto che aveva scritto che avendo questa estate nei campus estivi ha fatto raccogliere le carte le cartacee ai bambini nel loro ambiente quindi assolutamente ottima idea vedo invece da facebook che Donatella scrive staffetta di scrittura creativa BIMED è un progetto che mette in connessione delle scuole diverse sul territorio bellissimo ad esempio vi do questa idea se c'è l'idea della scrittura creativa più umani quindi anche magari seguendo un po' quelle che sono le indicazioni del grande maestro Mario Lodi creare ponti nel territorio con i ragazzi che magari di scuole diverse possono parlare di agenda 20-30 quindi uno dei vari goal che poi andremo a vedere o che approfondiremo a seconda delle vostre richieste anche all'interno del corso potrebbe essere fantastico direi proprio bello vedere anche come i ragazzi di vari territori possono vivere un'esperienza che è la stessa ma riproposta in contesti diversi ecco poi Giuseppina scrive viene da una scuola primaria in provincia di Treviso la sua idea per quest'anno è di utilizzare il più possibile il riciclo di materiali per realizzare piccoli progetti strumenti di lavoro per evitare gli sprechi bellissimo ecco i progetti di riciclo sono assolutamente importanti da collegare con il tema della sostenibilità ambientale e ecco molto bello io ho visto semplicemente l'altro giorno in classe ho spiegato ai bambini che le mascherine quando si buttano nella spazzatura bisogna tagliare il la cordoncina al filo perché altrimenti i pesci rimangono incastrati lo sapete che ci sono un sacco di pesci purtroppo che stanno morendo a causa delle mascherine so che sembra cruento come tema però effettivamente educare alla sostenibilità ambientale è anche dire la verità a volte nel senso che gli uomini purtroppo in questo momento storico stanno inquinando tantissimo con queste mascherine e quindi e invece sapere che si può fare un gesto per aiutare ecco anche questo è fondamentale quindi insegnare ai ragazzi i ragazzi lo sanno che nascono in un mondo inquinato e pieno di problematiche ambientali e vedete già quando arrivano poi alle scuole medie insomma hanno piena coscienza ecologica anche perché effettivamente c'è anche molta educazione alla sostenibilità ambientale cosa che una volta assolutamente non c'era e infatti lo vediamo adesso gli adulti di oggi quanto inquinano e e quindi fondamentalmente il fatto che ci sia una coscienza ecologica è da un lato può sembrare triste ma dall'altro lato ha un'enorme speranza in sé perché li abbiamo visti questi ragazzi cosa hanno fatto in questi anni ecco per l'ambiente quindi noi speriamo in questo di educare delle generazioni consapevoli capaci ecco dimmi tutto Francesca sì c'è un altro progetto bellissimo a mio parere scuola primaria di San Severo la cura dell'ambiente e degli esseri viventi tutti partendo dagli animali domestici quindi porta tuo petto a scuola io spero che nessuno tenga un cavallo come petto se no avrete dei problemi ecco allora invece Tiziana scrive si può pensare anche a un lavoro al contrario tipo gli alunni portano aspetti del territorio in classe attraverso fonti di vario tipo spiegando cosa rappresentano per farlo conoscere a coloro i quali non lo conoscono considerando le multietnie che ci sono nelle classi questa era posta come domanda sì allora un progetto di locale globale è bellissimo è fondamentale io lo feci anni fa e si chiamava proprio la mappatura la mappa non è il territorio ed era praticamente con i bambini di tutte le classi elementari medie superiori eravamo andati a mappare prima un processo di ascolto quindi delle loro realtà faccio un esempio il papà che aveva magari il negozio o magari un altro papà che magari aveva non so e faceva l'elettricista e conosceva bene quella zona quella realtà un altro che faceva il panettiere ecco ogni genitore che aveva quindi un esercizio commerciale un'attività nel quartiere raccontava un pochettino la sua storia e poi si andavano a unire i punti locali e globali perché poi c'erano anche tanti genitori che venivano da tanti posti del mondo diversi e quindi andavamo a vedere nella città questo filo questi fili che si univano tra di loro quindi io direi che sì è un'ottima idea tra l'altro questo rientra e poi nelle prossime lezioni ne parliamo proprio rientra nel percorso di intercultura per questo questo è un percorso al 100% di intercultura e l'intercultura è all'interno di agenda 20-30 quindi sei proprio con un focus centrato allora vedo che abbiamo poco tempo ti leggo alcuni due gli ultimi due allora Antonio che scrive ho effettuato la didattica dei luoghi anche attraverso un mio progetto intitolato lo sguardo del cittadino terlizzese itinerante nel suo territorio che ha dato la possibilità in concreto di acquisire conoscenze e competenze in maniera estremamente piacevole interdisciplinare e intercontolare con confronti con altri territori e nazioni c'è chi ha aderito anche alla rete di scuola la BIL la biblioteca itinerante sui temi della legalità e da facebook invece Daniela si ricollega con i bambini di 5 anni quindi non so se parli di primaria primo diciamo prima classe o ultimo non so se parla dell'infanzia comunque partita dalle nuove regole igieniche data dalla situazione di emergenza per la tutela della salute dei singoli e del gruppo e poi a seconda delle giornate mondiali ha affrontato alcuni temi quindi per la giornata la settimana della gentilezza per far crescere un fiore speciale grazie alle parole gentili che uscivano dai stessi bambini la giornata dei diritti dei bambini facendogli scoprire con gli albi illustrati i diritti dei fanciulli la festa dell'albero per promuovere il senso di rispetto verso la natura la festa del tricolore per la costituzione della memoria per introdurre il tema della diversità e così via il tutto attraverso prozioni pratiche piccoli gesti di responsabilità e rispetto grazie mille intanto a tutti quanti e andiamo avanti perché appunto visto adesso il tempo come al solito ecco io posso andare avanti ma tutti questi sono progetti bellissimi per scuole di connessione condivideteli con noi sì assolutamente sì ecco allora vedete la costituzione che è uno dei punti di oggi no perché il nostro webinar era costituzione territorio bene comune quindi iniziamo proprio a entrare nel vivo la costituzione allora Gianni Rodari diceva che i ragazzi hanno bisogno di quelle che una volta si chiamavano le cose più grandi di loro i ragazzi hanno bisogno di prendere parte a cose vere l'abbiamo detto abbiamo detto in tutte le riflessioni che abbiamo fatto fino adesso quindi hanno bisogno di concepire ideali e di imparare ad amarli sopra ogni altra cosa quindi far appassionare ai bambini alla legalità alla giustizia per questo vi indico così velocemente delle associazioni a cui potete far riferimento per i vostri progetti di legalità che sono libera sapete libera contro le mafie i giuristi democratici gli avvocati di strada ecco io vi dico anche quelle che sono nella regione Veneto a Padova e in Italia ma ogni scuola il lavoro che dovrebbe fare con i propri allievi e con i genitori dei propri allievi è mattare il territorio e quindi scoprire le associazioni che si occupano di legalità nel proprio quartiere nel proprio territorio e poi andiamo avanti ancora c'è la tecnica del camishibai quindi come si parla di costituzione togliamo quei sussidiari quelle carte che tanto ci fanno ricordare i tempi passati che abbiamo visto non particolarmente proficui per quanto riguarda l'educazione civica e parliamo con un altro linguaggio uno dei corsi di scuola oltre che ci sarà anche quest'anno è quella della tecnica del camishibai che voi sapete essere quella tecnica giapponese di c'è questa struttura in legno dove scorrono le immagini che i bambini stessi disegnano ecco io l'ho provata con la costituzione quindi com'è abbiamo interpretato gli articoli della costituzione e si può rappresentare graficamente questo sia magari all'ultimo so che questo è un corso solo per la primaria però lo do come indicazione questa visto che tratta del disegno come ultimo anno della scuola dell'infanzia in preparazione proprio alla scuola primaria e tutta la scuola primaria ecco la costituzione diciamo che noi come scuola pubblica dovremmo pensare semplicemente a educare allo spirito critico quindi è fondamentale educare allo spirito critico e quindi noi dobbiamo pensare a nuove generazioni di attori poeti scrittori avvocati medici agricoltori con valori ed ideali ispirati alla democrazia ecco questo lo vediamo anche nelle parole di Piero Calamandrei sull'importanza poi della scuola pubblica quindi possiamo andare avanti quindi abbiamo visto proprio la costituzione il testo andiamo pure avanti ancora tanto queste slide vi arrivano e qui vediamo la costituzione e la democrazia quindi educare alla democrazia via web e quindi ad esempio riconoscere le fake news la privacy il cyberbullismo cioè dobbiamo parlare di questi temi nelle nostre scuole soprattutto per quanto riguarda le fake news chi insegna poi italiano alla scuola primaria fondamentalmente in quarta quinta ecco è fondamentale iniziare a prendere in mano le ecco se voi pensate ad oggi come oggi e quando noi pensiamo anche alle persone adulte che non sanno leggere una notizia e si creano poi anche quelle confusioni anche violente antipatiche che ci sono ogni giorno tra le persone perché nascono perché in effetti non c'è questa educazione cioè le persone e siccome il mondo è cambiato non è sempre senza giudizio e il mondo è cambiato molto velocemente e c'è una complessità fuori misura e quindi e quindi è sempre più difficile avere quelle chiavi di lettura per comprendere una notizia ma se io non comprendo una notizia non sono neanche in grado di inserirmi nel mondo del lavoro come cittadino quindi è inutile poi che io magari sappia memoria è quello che si cerca anche di spiegare a volte gli insegnanti di ogni ordine in grado sappia memoria magari la pagina del libro se poi non so neanche quando prendo un quotidiano capire se una notizia è una fake news o meno andare alla fonte della notizia anche in internet è fondamentale lo so che non tutti gli insegnanti hanno le competenze e so anche che spaventa tantissimo spaventa tantissimo ma noi due scuola oltre siamo qui per questo proprio per alleggerire questo compito e semplificare questo lavoro agli insegnanti ecco e andiamo ancora avanti quindi vediamo appunto le 20 competenze incluse nel modello del consiglio d'Europa su cittadinanza e costituzione quindi abbiamo la trasversalità questa ecco questa è quando vi si dice ah no ma c'è il programma da finire ah ma in fondo a me l'educazione civica non interessa più di tanto ah ma si perde tempo a fare queste cose a me vengono i cappelli bianchi bianchi perché perché c'è la trasversalità ci sono le competenze dobbiamo stravolgere completamente il modo in cui si faceva scuola prima diciamoci la verità è vero l'hanno calato dall'alto l'hanno calato in fretta non l'hanno spiegato bene è vero l'insegnante ha milioni di problemi abbiamo detto con la porta chiusa a chiave da risolvere c'è una profonda a volte anche mancanza di rispetto nei confronti della nostra professionalità io qua sono in diretta lo so però mi assumo la responsabilità di quello che dico ma noi insegnanti dobbiamo tenere conto delle competenze della trasversalità questo significa che possiamo proprio l'educazione civica è della comunità scolastica deve interessare la scuola l'istituzione il comprensivo dove siamo e le nostre ore che dedichiamo per fare questo tipo di disciplina di competenza in qualche modo sono fondamentali e quindi l'apertura dell'alterità culturale ci ricordiamo perché molto spesso non si tiene presente ma no siamo scuole con la multicultura il rispetto il civismo la responsabilità la tolleranza l'incertezza e qua vi lascio una domanda retorica perché vado un po' più velocetta e quindi vi chiedo che atteggiamenti mettereste voi all'interno di tutto questo magari ci pensate li potete scrivere in chat poi io e Francesca andiamo a leggerceli andiamo avanti allora andiamo avanti con una citazione di un grande pedagogista che mi auguro tutti conosciate se non lo conoscete è assolutamente da conoscere che è Paolo Freire la pedagogia della speranza fare oggi quel che è possibile per poter fare domani quello che oggi è impossibile quindi se noi in qualche modo diciamo sempre che non si può alla fine non finiremo a fare proprio niente ecco andiamo avanti ancora e scopriamo il territorio come bene comune allora io personalmente insegno geografia da tanti anni proprio perché adoro invece il tema dell'educazione civica che ho sempre portato in classe tramite la partecipazione ecco e quindi appunto vi ho un po' raccontato il tema della cittadinanza attiva la costruzione delle mappe delle cartine geografiche c'è l'associazione italiana insegnanti di geografia che io ringrazio perché sono veramente in gamba e i dipartimenti di geografia chi abita che ha un'università vicino ci sono i dipartimenti di geografia che offron numerosi spunti per le vostre classi sono veramente bravissimi spesso fanno l'university kit veramente ecco approfittate di queste andate a vedere il sito dell'Aiger mi raccomando ecco quindi a valorizzare il territorio col file fondamenti un ambiente italiano quindi andiamo avanti e vi propongo una delle ultime slide che è il territorio bene comune ecco un esercizio che potete fare non adesso ma anche in questo momento ma anche più tardi ma fatelo assolutamente e quindi scrivere cinque posti del vostro territorio che vorreste far conoscere ai vostri alunni chi si iscriverà al mio corso glieli chiederò all'inizio della prossima lezione ve lo dico sono un'insegnante buona ma esigente cinque realtà associative che si occupano del territorio nel vostro comune nella vostra regione ecco quindi l'esercizio è questo cinque posti nel territorio che vorresti far visitare i tuoi alunni e cinque realtà associative che si occupano del territorio del tuo comune della tua regione quindi poi scegli un posto e una realtà associativa e immagina di scrivere un progetto a partire da questo esercizio ecco questo esercizio qui me lo potete mandare anche via mail e poi vi darò il mio riferimento o anche a scuola oltre perché ci tengo tantissimo ecco andiamo avanti e qui abbiamo la bibliografia perché sapete che i libri sono utili per capire e approfondire e quindi per chi vuole approfondire come giocare con la pace assolutamente la carovana dei pacifici della Luciana a Bertinato e la costituzione raccontata ai bambini le competenze di cittadinanza il curriculum verticale in insegnamento dell'educazione civica della costituzione andiamo avanti ancora e abbiamo altri ecco Mario Lodi Daniele Lovara che voi tutti conoscete Alice nel Paese dei diritti è assolutamente carinissimo anche la costituzione degli animali che è bellissima per parlare di costituzione con i bambini poi dal 2020 abbiamo anche attiviamoci un percorso di cittadinanza attiva solidale responsabile per i bambini della scuola primaria ecco e ovviamente andiamo avanti ancora vi rimando a quelli che sono i miei contatti per poi non vi sto salutando ma per dirvi che potete mandarmi a info chioccelabatteanna.com l'esercizio che abbiamo visto prima con i 5 e 5 punti e io vi ringrazio di essere state qui con voi e vi dico che questi temi e i prossimi temi quindi che cosa affronteremo nei prossimi temi l'agenda 20-30 scenari e sfidi per la formazione di cittadini attivi e consapevoli e come viverla attraverso esperienze insieme ai propri allievi quindi la comunità educante a partire del territorio quindi vi verranno date tantissime nozioni rispetto a questo e qui passo la mano a Francesca intanto vi ringrazio tantissimo grazie Anna come avrete capito vi metterà tanta carne al fuoco dovrete lavorare anche voi e condividere con lei tante idee vi farà fare veramente tante brainstorming allora volevo riportarti intanto scusate ho pubblicato nella chat di zoom il link per l'attestato adesso arrivo anche su facebook grazie ti ringrazia appunto per il richiamo a Paolo Freire perché si è laureata proprio con una tede sul metodo di coscientizzazione ideato da lui quindi ha apprezzato il riferimento poi abbiamo un intervento di luce salve a tutti colleghi e colleghi spero mi sentiate ringrazio la nostra meravigliosa relatrice Scuola Oltre per l'efficacia comunicativa con cui hanno delineato quella che è una tematica cruciale nella scuola dell'innovazione del rinnovamento l'educazione civica è stata spesso definita materia chimera cenerentola della scuola italiana io che tra gli anni 80 e 90 frequentavo la scuola primaria allora scuola elementare l'ho studiata come integrazione alla storia come diceva anche un collega in chat in modo saltuario sporadico non strutturato e l'insegnamento dell'educazione civica per dirsi efficace non può limitarsi a trasmettere informazioni e conoscenze come la relatrice ha più volte ribadito ma deve produrre dei cambiamenti nei comportamenti dei nostri alunni e oserei dire anche nei nostri di noi docenti che insegniamo con tutto il nostro essere probabilmente l'insegnamento dell'educazione civica parte proprio dal comportamento operante del docente che mostra trasmette rivela valori opportunità competenze tutto si traduce in uno sviluppo etico e in una capacità di ragionamento critico perché nell'insegnamento dell'educazione civica c'è sempre il problem solving e ricordiamoci che non vi è una vera democrazia laddove anche le minoranze non vengano ascoltate e accolte un saluto a tutti grazie mille luce grazie mille le tue parole sono confortanti grazie a lei a tutti grazie davvero come sempre allora do qualche informazione e rinnovo in merito al corso di Anna allora il corso è di tre incontri quello di odiare solo un assaggio ci saranno come ha detto Maria ha riassunto la formatrice altri due incontri uno sarà il primo ottobre due ore dove si parlare appunto di agenda 2030 cittadinanza attiva il secondo sarà l'otto ottobre invece entrerete più su come viverla tramite esperienze insieme ai propri elevi quindi un aspetto forse un pochino più laboratoriale e pratico ma come vedete Anna vi dà veramente molte attività pratiche direttamente attuabili ma soprattutto credo vi dia gli spunti per rendere attuabile nella vostra realtà quelle che sono le idee che avete in mente il corso lo trovate su Sofia vi potete scrivere anche su Sofia lo trovate con l'ID 888 861 si chiama educazione civica e agenda 2030 ma non fare confusione con altri corsi cercatelo con l'ID potete pagare il corso con carta del docente o bonifico o ordine comunque sul nostro sito pagando con bonifico o paypal se pagate con carta del docente è un buono da 59 euro nell'attesa che ancora siamo in attesa dello sblocco potete inviarci una mail con l'impegno al pagamento noi in piena insomma azione civica rispetto l'apertura verso gli altri noi prendiamo atto del vostro impegno della vostra parola e quindi vi considereremo iscritti per quanto riguarda invece gli ordini su nostro sito il costo varierà se siete soci o non soci perché i non soci dovremo applicare l'IVA quindi i soci pagheranno 59 euro i non soci 71 euro e 98 può essere l'occasione per entrare a far parte della nostra associazione della nostra famiglia a tutti i corsisti verrà dato un link per una pagina dedicata al corso dove verrà messo tutto il materiale quindi anche se salterete un corso ci sarà un consiglio ci saranno gli incontri con i genitori non vi preoccupate potete rivedere tutto tramite registrazione i materiali verranno dati come quello di oggi e quella pagina rimarrà a voi per sempre l'attestato avrete un attestato riconosciuto per 10 ore perché ci saranno come vedete le ore di approfondimento e le linee semprate che vi verranno richieste sarà riconosciuto dal MIUR e lo scaricherete a fine corso per chi invece vuole rivedere le insomma la registrazione di oggi e avere i materiali di oggi ci vorranno due o tre giorni i lavorativi lo troverete sulla nostra pagina del sito registrazione webinar gratuiti quindi probabilmente inizio settimana prossima la potete andare anche a rivedervi i vecchi webinar gratuiti della scorso anno scolastico passato di Anna Abate a scuola di benessere e educazione civica mi pare non mi ricordo bene il titolo sì sì io direi che abbiamo detto tutto come sempre grazie vedo che ci sono tanti come si dice tanti messaggi di ringraziamento e tanti complimenti per la tua chiarezza e quindi io vi ringrazio vi aspettiamo numerosi non aspettate gli ultimi minuti per iscrivervi che magari dopo siamo tutti in velocità se c'è qualche problema per attestato materiale qualcosa che non avete capito scrivetemi pure a info.chioccelascolavoltre.it e vi risponderò subito grazie davvero ancora a tutti e auguriamo una buona serata buon weekend grazie Anna davvero e speriamo davvero di vederci presto buona serata anche grazie anche a chi ci segue da Facebook a